perchè questa macchina è flottante perchè la macchina è flottante ma questo tre di qua è bellissimo ciao a tutti oggi torniamo a girare in quel di colazza avevo già fatto un video in precedenza abbiamo io, il meccanico Giorgione in più abbiamo la componente straniera di un cecoslovacco che ci hanno detto che dà un gas esagerato e oggi lo portiamo a vedere colazza e colazza è uno di quelle location come ho già detto nell'altro video molto semplici per cominciare a capire cosa significa fare enduro ne consegue che per chi non lo sapesse sono una guida ci sono tutti riferimenti sotto i miei video riguardo alla pagina facebook su cui potete trovare alcune indicazioni poi tra qualche mese uscirà anche qualche novità tra cui sito e via dicendo comunque sono una guida ed organizzerò anche giornate in location come questa per chi vuol cominciare a capire cosa significa l'enduro questa location qua è molto simile un po' meno tecnica se vogliamo dirla tutta a Montorfano Montorfano Lipomo e Valbasca tanto per intenderci da urlo quindi ci saranno anche riferimenti per giornate organizzate proprio per farvi scoprire i sentieri dei Lupi del Cornaggia qui bisogna fare un encomio perché sono loro che li mantengono e le giornate si struttureranno sulle 3-4 discese principali che ci sono qui a Colazza ieri è anche piovuto nel milanese qua appare tutto abbastanza asciutto situazione questa e andiamo e attenzione adesso qua abbiamo da fare la presentazione beh il meccanico lo si conosce ormai è rider però qua davanti abbiamo uno che ha cominciato a fare enduro tipo da quant'è che fai enduro Giorgione? un paio di mesi? continui? ok e già dalla paga tutti BIG Giorgione! e oggi ci siamo portati dietro anche la la legione straniera Mike saluta ciao direttamente dalla cecchia ciao Italia ciao 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 sembra piccola sembra piccola però anche abbiamo l'elettrico che fa ritmo fa ritmo canada canada ha guardato la papaya? tuttoا ci sono tre trasporti serie CV classico storico ricca una rana è quella che sta e ora vuoi andare avanti te? vai me ok alcun bini fermati eh nice hehehe dite mi voi è un classico vai vai via 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 siamo che via 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 Grazie a tutti No no di qua Che figata Seconda risalita Esatto Figa ma non è Giorgione Proprio azzecca anche i termini Cioè Lifestyle Poi cos'è che hai detto prima Unboxing Giorgione tu sei un Sono youtuber mancato anche te Eccolo Equilibrista Big Giorgio Mike I'm ready Eccolo 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 Questa è la scuola bella che figlia e gli altri li abbiamo persi subito eccoli che arrivano non solo loro sono altri quindi vai sentiamo lì di là ma eravate voi però non sentivo loro dietro poi mi sono girato non li ho visti in un paio di curve ho detto oh hanno tagliato qualche bella figa bellissima fai dei salti belli proprio hai fatto un servizio sul salsicciotto il buon Giorgio ha stallonato si è riuscito a fare tutta la discesa a tuono con la ruota così quindi per chi non crede ancora nei salsicciotti Giorgio di la tua ti ha salvato la discesa abbiamo Big Giorgione Big Giorgione è praticamente un gara di penne oggi sei l'orso del circo ecco vedi la birra cosa fa Marco è la voglia di andarla a bere un po' di rubrica un po' di rubrica finita la notte si ciao 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 Altra linea Marchino Cambia linee così Altra linea Marchino Figa che doppio Altra linea Marchino Altra linea Marchino Altra linea Marchino Altra linea Marchino Nooo Ha spaccato il cambio Perché sto dietro dietro e tutto era bene E ora ando in fronte Il cambio 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 Oh ma sto trail qua è bellissimo Il cambio 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 Lo straniero Lo straniero Mike